La Maserati tipo 63, buongiorno signori. 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 Abbiamo un'altra vettura della stessa casa, andiamo in avanti di qualche anno. E qui con la prima vettura del concorso di eleganza alla Rolls Royce. Ed è stato un regalo di fidanzamento. Fisca degli anni 30, doveva essere un personaggio molto particolare per osare così tanto. E infatti il primo... E come si dice, tombe un panno. La macchina è rimasta guerra, è stata messa... Pensate... Pensate...